Piazze è di fatto uno dei pochissimi festival in Italia nato in pandemia e dal vivo. È nato perché c'era un'esigenza da parte di alcune comunità del territorio di ritrovarsi nell'atto teatrale. Quindi noi semplicemente come Università di Urbino, perché noi siamo il centro teatrale dell'Università di Urbino, abbiamo raccolto queste esigenze. E così è nato il Festival Piazze. Questa notte toccherà circa 10 borghi dell'entroterra con spettacoli di assoluto livello, quindi artisti di primo piano nel panorama nazionale. E lo fa grazie a questa particolarità. Noi abbiamo costruito un palcoscenico in legno, modulabile e smontabile, che riusciamo in qualche modo a spostare durante tutte le state da un posto all'altro. Questo ci permette di trasformare qualsiasi piazza in un luogo di spettacolo, in un teatro a cielo aperto. Si comincia il 27 di luglio da Sant'Angelo in Vado con Tindaro Granata, uno spettacolo bellissimo, Antropolaroid, che quest'anno ormai è al suo decimo anniversario. Si attraversa praticamente tutta la provincia e si finisce a Gallo di Petriano l'8 settembre, quindi sono diversi mesi. Il ruolo dell'Università è centrale perché il centro teatrale universitario Cesare Questa, come dice il nome, è parte dell'Università, è un organismo dell'Università. Se voi andate sul sito dell'Università, sotto la voce Terza Missione, che è uno dei compiti principali dell'Università italiana, cioè quello di tramutare i propri prodotti della ricerca in servizi per il territorio, troverete il centro teatrale universitario Cesare Questa fra gli organismi principali che svolgono questa funzione. e Utu Piazze è, credo, una delle manifestazioni più concrete di questa attività sul territorio, perché porta il teatro dove il teatro non c'è, trasforma in prodotti, chiamiamoli prodotti culturali, che servono per la comunità, perché il teatro ha un valore sociale, antropologico, importantissimo per la comunità, trasforma i prodotti della ricerca in prodotti culturali di alto livello. Uno degli eventi che vorrei sottolineare, che mi sta particolarmente a cuore, è un evento che ho quasi chiesto e che verrà fatto, che si farà il 31 di agosto a Isola del Piano e che è dalla semina al cielo, perché quest'anno ricorrono i 50 anni quanto con Gino, Girolomoni e alcuni ragazzi di Isola del Piano andammo per la prima volta al monastero di Montebello. L'evento riguarderà Gino e Girolomoni, ci saranno anche probabilmente dei passaggi, come mi era stato detto, su Baldassare Castiglione, che era il signore di Isola del Piano, e le poste quel giorno faranno anche un annullo filatelico sui 50 anni di Montebello e della cooperativa Girolomoni.